Sono lieto di annunciare che abbiamo fatto dei significativi passi avanti. Ieri ancora, tutto il pomeriggio, l'ho dedicato a lavorare per le autonomie e oggi, nell'incontro che ci è stato allargato a tutti i ministri presenti, abbiamo compiuto dei significativi passi avanti. Intravediamo adesso l'addirittura finale. La settimana prossima ci sarà ancora qualche ulteriore passaggio, ma confido che si sta aprendo la finestra per portare questo provvedimento sulle autonomie in Consiglio dei Ministri. Il disegno dell'autonomia differenziata si sta realizzando con le garanzie che ho sempre richiesto, e cioè di concedere di realizzare un progetto costituzionale, sì, previsto dalla Costituzione per la prima volta, ma senza che questo possa recare il documento, danno alle altre regioni. Probabilmente lo preannuncio e poi ovviamente avrò modo di parlare direttamente ai governatori direttamente interessati. Non avranno tutto quello che hanno richiesto, ma ci sta. Dobbiamo entrare nell'ottica che è un negoziato tra Stato e regioni, e il negoziato significa reciproche concessioni. Se mi chiedi 100, ti concedo 100, non siamo nella logica delle reciproche concessioni. Un nodo politico ancora è rimasto, perché oggi è rassente il Ministro dei Beni Culturali, perché è a Firenze per un impegno, come sapete, istituzionale, quindi oggi non siamo riusciti a chiudere per quanto riguarda l'aspetto dei beni culturali, la materia dei beni culturali, che rimane quindi oggetto di un incontro che faremo ristretto all'inizio della settimana prossima. Però devo dire che oggi veramente è stato un grande passo avanti, perché abbiamo operato una ricognizione complensiva tutti insieme di tutte le materie, eccetto quelle che ho menzionato, in particolare i beni culturali, eccetto il meccanismo finanziario che dovremo rivedere. Quindi ringrazio tutti i Ministri che erano oggi presenti, e ovviamente tutti i Ministri che erano assenti giustificati, per tutto il lavoro che abbiamo fatto in questo periodo. Sapete, abbiamo fatto tantissimi incontri, proprio perché ci tenevo a realizzare un disegno di autonomia differenziata sostenibile, compatibile con il nostro disegno costituzionale.